Agroforum 5.0, ovvero il nuovo format del polo fieristico d'Abruzzo Lanciano Fiera. La convention che si è svolta ieri sera con imprenditori agricoli, associazioni di produttori, aziende del settore ed espositori è stata fortemente voluta dal nuovo CDA di Lanciano Fiera, proprio per dialogare e confrontarsi con coloro che saranno i veri protagonisti della 61esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura, in programma dal 14 al 16 aprile 2023. Sentiamo il presidente di Lanciano Fiera, Donato Di Campli. Il polo fieristico regionale di Lanciano ha bisogno di una svolta decisa, la mia presidenza intende fare questo e rilanciare soprattutto quest'ente che credo sia il cuore pulsante dell'economia dell'Abruzzo. Quali saranno le novità più importanti e anche quelle più appetibili? Sicuramente andremo verso una specializzazione dei settori molto marcata. Negli anni passati la fiera aveva perso di appeal, soprattutto perché mancava questo requisito essenziale. Era diventata più una fiera di paese che una fiera di settore. Noi intendiamo fare questo andando a confrontarci oggi con i player di questa fiera che sono i protagonisti e cercheremo di alzare l'asticella rispetto agli anni passati. All'incontro presente anche Luigi Deramo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, che si sofferma sulle opportunità che arrivano per il settore da Europa e governo. La Commissione Europea ha dato il via libera alla nuova PAC, 37 miliardi per i prossimi anni. Abbiamo stanziato 75 milioni per tre anni per la digitalizzazione delle imprese agricole. Insomma c'è tutto un mondo che chiaramente si muove e rispetto al quale dobbiamo dare visione e appoggio economico. E questo evidentemente sarà fatto. Poi la sfida passa anche attraverso due settori importanti. Uno è quello delle agroenergie che sarà evidentemente la sfida dei prossimi anni e anche quello relativo alle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'agricoltura. Infine l'assessore regionale Nicola Campitelli accoglie con favore il progetto che riguarda la copertura dei tre padiglioni, circa 15 mila metri quadrati, con pannelli fotovoltaici. Noi stiamo cercando insieme agli uffici di trovare quei giusti fondi per poter finanziare un intervento del genere. Abbiamo l'obiettivo all'interno della nostra regione di quella di aumentare la capacità rinnovabile. Abbiamo una capacità rinnovabile di 27%, quindi circa 3 gigawatt. Siamo assolutamente al di sopra della media nazionale che è il 19%. Noi puntiamo all'autosufficienza energetica dei nostri cittadini.